Ciao bellissimi, ben ritrovati in questo video di Brawl Stars Come state? Spero tutto bene, Leon, Mece, non mi interessa E quest'oggi ragazzi siamo qua perché voglio andare a fare qualche partitella Voglio andare a recuperare le mie 31.000 coppe E niente, facciamo qualche partitella Intanto ragazzi, like, iscrizione e campanella E' arrivata l'ora Di farci qualche partita, intanto spero che abbiate visto il Brawl Talk che c'è stato ieri Di Draco e Lily E beh, vi dirò, non sono niente male, ne sono i due brawler Più tutto l'aggiornamento delle uova, non ditemi che cosa ne pensate voi E andrei subito di andarci a fare qualche bella partitella Io ora sarei classificata in questi periodi che non sto giocando E quindi Così, che cosa c'è della ricompensa Gratis E doppie gettoni Madonna ragazzi, quanto capita sta ragazzi Sono 20 minuti E ragazzi Andiamoci a fare qualche partitella Direi di pusharci un pochino Melody Scaliamo, facciamoci qualche partitella con Melody Molto fast Vediamo dove riusciamo ad arrivare Team bot Ma Gli dirò Madonna Per quanto è scarsa Non direi, sembra un po' strano Ma è un po' Oh 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 5 brawler rimanenti Ok 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 Attenzione a questo merda più 10 scusate se non parlo ma mi sto cercando di concentrare ragazzi io quando inizio a giocare mi concentro un bel po ho la faccia del team bot, un po' se mi ha capitato guarda qua avanti player ragazzi miei mi raccomando iscrivetevi al canale voi eh se vi piaccia nei video attenzione a questo qua come cazzo si chiama la brudelius brudelius 7 player vai col 6 ah aiuto dai devo stare a rompermi il cazzo ho la faccia va ragazzi 0 coppe non me ne vado con 0 coppe allora essere troppino raro 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 te pareva eccolo qua il brudel pensiamo al new community manager dai che me ne basta uno e ripio le mie 31.000 coppe che è troppo da una mera di coppe e e e e edgar e . , . . . . nice match a posto 8 coppie andate a posto più la del così quasi quasi mi vado pure a fare la partita lo tengo a 607 coppie ma guarda che sembrava da fare in k ora ragazzi vai speriamo di vincerla ma all'ultimo questo sto equilibrato oh dio stai capircando il 2019 non sei solamente tu la tengo pure io io tengo però non tengo a scegli stellare attenzione che l'edgar può provare un'eventuale push comunque meglio che lancia biscotti non mi venga a pushare attenzione non è impossibile oddio 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 ragazzi ho vinto oddio 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 vuole edgar vai 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 prestalo 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 e vai che si vince che si vince il match che è il migliore ovviamente io ebbene si 616 edgar bellissime 700 gettoni portate a casa e ce ne andiamo felici e contenti per ragazzi lasciami sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo prossimamente in un nuovo video ciao ragazzi ciao